Si può spiegare l'amore? Oppure, come sosteneva Novalis, solo i poeti possono custodirne il segreto? Io sono Stefano Rossi e questo è Educare l'amore, il podcast di Feltribelli sull'educazione sentimentale dei genitori e ragazzi. Una prima forma con cui Thanatos incatena la luce di Eros è la trappola sentimentale della manipolazione affettiva. La manipolazione affettiva si lega infatti a un tema oggi molto discusso che è quello della indicibile violenza di genere. Ora, con un figlio e con una figlia è importante pensare i tre tempi della manipolazione sentimentale. Il primo tempo equivale al bombardamento di luce. Il predatore sentimentale si avvicina alla sua vittima con un bombardamento di complimenti, apprezzamenti, gesti iper romantici. Ora, se da un lato ogni corteggiatore, anche quello in buona fede, in questa fase si dona e dona all'altro delle carezze di luce, qui la prima bandiera rossa, il primo alert è il bombardamento di luce, cioè la quantità di apprezzamenti, ma anche la velocità con cui il predatore inizia a farci capire che siamo perfetti per lui, che non esiste nessuno come noi. Ma a questa fase poi ne segue una seconda, che è l'alternanza luce-buio. Dopo il bombardamento di luce, che i nuovi adolescenti chiamano love bombing, arriva il ghosting, cioè la sparizione. Di colpo il predatore sparisce. E questo lascia nel dubbio, nel disorientamento, nella confusione e nel dolore il cervello della preda, che inizia a porsi delle domande. Ma dove è finita quella persona stupenda che mi stava corteggiando? Ecco allora che dopo la sparizione, in questa seconda fase, c'è un'alternanza luce-buio. Il predatore un po' si palesa, un po' sparisce. Un po' da luce e un po' da buio. A questo punto, con questo rinforzo intermittente, che cosa succede? Che la vittima inizia a vivere queste briciole di luce come se fossero un'epifania, un regalo incredibile. In questo modo il predatore insegna la vittima ad accettare, come dire, anche la povertà della luce che le dona. Ma poi c'è la terza fase, è quella del buio completo, è quella dell'annientamento, in cui il predatore inizia a rivelare la sua vera forma, una forma distruttiva che umilia, che mortifica, che distrugge emotivamente l'altro. E qui l'opera d'arte che ti consiglio di pensare con tuo figlio o tua figlia è il quadro di Picasso, della donna che piange, dove trovi una donna in frantumi, il cui volto è rigato da una lacrima. E allora questa donna è stata una delle amanti di Picasso e devi sapere che Picasso è stato uno straordinario artista, ma anche un predatore sentimentale. Più di una delle sue amanti si sono suicidate per come Picasso le aveva annientate emotivamente. Allora qui la lezione d'amore da condividere con un figlio o con una figlia è che se ti riduce in frantumi, come la donna che piange di Picasso, non è amore, è violenza. Se ti bombarda, se ti umilia, se ti mortifica, non è amore, è un bombardamento. Allora iniziamo a pensare con ragazzi e ragazze che il concetto di amore che fa male non esiste. Se fa male non è amore, se fa male è violenza.